Salutiamo la scuderia Mansella, grandi amici! Alessandro, in volo dal cavallo, signori incredibile questo ragazzo, si è praticamente tuffato ed è risalito! Un applauso per lui, grande Ale! E vai! Scende di sale con una facilità incredibile! E ben sicuramente chi vede Alessandro per la prima volta dice ma questo è mezzo matto! E invece io, signore e signori, vi dico che Alessandro è veramente bravo! Bravi ragazzi, congratulazioni!